Musica Buonasera signore, buonasera signori Grazie, grazie all'AMIA che ovviamente oggi avrà molto da fare Grazie AMIA, grazie veramente Grazie a tutte le forze dell'ordine Che sono veramente importantissime per la nostra sicurezza Grazie veramente Naturalmente al musso papà del gnocco Vedi che anche come c'erano le musicali sono i giornali Dole volute a rubire l'artista di una ora Musica 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 E quindi un grande attacco, il nostro giocogliere, Fucati di Marte, che è il campionale veronese. Ed eccolo qui! Il mitico papà del gnocolo, il troppo di comunsore. Quattrocento e novantatresimo, papà del gnocco. Ciao papà del gnocco! Ciao, ciao, ciao! E mi risulta essere anche il proprietario del muso, non sbaglio. E le sue gnocoline, eh? Io ringrazio tutti quelli che oggi sono venuti in questa stupenda piazza per far sì che la sfilata sia stupenda. Grazie e ci vediamo all'arrivo per chi ci sarà durante tutto il tragitto. Grazie ancora! Grazie papà del gnocco, nel frattempo noi salutiamo e ringraziamo anche il nostro sindaco che sta per tornare alle sue numerose attività. Grazie, ancora un saluto al nostro Damiano Tommasi. Grazie per essere stato con noi. Ciao, grazie Damiano, grazie, sei un sindaco che raggiunge il palazzo Barbieri dove c'è la postazione tv. Certo, il lavoro non si ferma mai. E no, nel senso che c'è la postazione tv, quindi farà un po' la colla. Sì, sì, sì. Agli amici che stanno facendo delle interviste lì, abbastanza corte, altrimenti bloccate tutto il corteo. Grazie. Eccolo qui il corpo delle Maggiorette Afrodite. di Mozzecane, il corpo bandistico e le Maggiorette. Alcune molto giovani, altre un po' più navigate, più esperte. Altre hanno visto tanti camevali e per alcune invece il loro primo corteo. Quindi un grande applauso alle piccolissime Maggiorette che stanno sfilando in questo momento. Grazie a tutti. Per arrivare, naturalmente, al punto d'arrivo che sarà in piazza San Zeno. Ragazzi, avete fatto la ceretta? Ragazzi, avete fatto la ceretta, fa vedere. Insomma, via tante. Sì, insomma, va bene. Ecco di nuovo il nostro presidente Valerio Corradi. che sta passando con la macchinetta elettrica. Il Maggiorette è il massimo momento del tempo. Sì, insomma. Sì, insomma. Grazie a tutti. 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 Buonasera, buonasera. Buonasera. Grazie a tutti. Buonasera. 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 E' un po' di più E' un po' di più Ok Le porto mi c'è anche il risole in giro benvenuto al risole ragazzi fate una frase a michael jackson se no ha detto che oggi non fa impatti difficili facciamo qualcosa a lei pensate che siete appena partiti tre chilometri ancora non 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. 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 Sì.